Questo è il burocco, ho scelto giusto, penso, è un burocco. È lo più importante, sono spiegargati. Tre. Ehi! Questa è la prima volta, su mamma la verosa. No, le acco, le acco, sei tante, è il tristorante. Lì, sei sempre sanato. Sì! Non l'ho visto, è una cosa un po' buona. Vai, 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 vai! Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì.